Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo nella lettura del diario di Ugo Cavallero riprendendo dal 10 aprile, abbiamo lasciato ieri con il giorno 9 in qualche modo abbiamo definito le prospettive ma diciamo che sono prospettive un po' che vanno prese con le pinze nel senso che di fronte a una situazione in cui nella migliore delle ipotesi si riesce a resistere, perché poi questo è, non è che ci sono grandi attacchi anzi ci sono anche piccoli attacchi, c'è una situazione pressoché stazionaria in attesa degli eventi di cui sono però protagonisti i tedeschi che già sono a Salonico, insieme agli ungheresi quindi diciamo che di cosa stiamo parlando? Vabbè comunque diciamo che in qualche modo ci è propedeutico per andare sempre a capire questa dinamica assai difficoltosa della guerra italiana 10 aprile, alle 10.30 ricevo comunicazioni che le forze tedesche hanno occupato Monastero ecco, pure Monastero alle 11.45 telefono a Pirzio Biroli che si ha sensazione che in zona ciafatane sembra che le nostre truppe non abbiano molto mordente gli confermo che ho bisogno che egli possa scattare al minimo cenno il cedimento può avvenire da un momento all'altro i tedeschi sono a Monastir spinga con tutti i mezzi che ha l'azione su Struga cioè non possiamo essere secondi ai tedeschi magari fossimo secondi ai tedeschi alle 11.50 ricevo Farinacci ecco a posto bene mi parla di scarsa capacità attacco nostre truppe bisogna rifare la disciplina nazionale niente meno Farinacci parla Farinacci udite udite Metal Mike parla Farinacci e ho detto tutto alle 11.55 telefono a Magli che i tedeschi sono a Belgrado ecco i tedeschi proprio hanno sbaragliato alle 12 ricevo Ferrero mi segnala in attività nostra commissione presso i tedeschi ordino mettersi in collegamento con essa conseguente radiogramma virgolette siamo meravigliati non abbiate ancora preso collegamento con noi fornite spiegazioni virgolette che vi devo dire vabbè alle 12 telefono al Duce dandogli la situazione e gli ho detto che ieri nello scutarino si è combattuto forte la nostra fascia di sicurezza avanti a Scutari ha esercitato una sua funzione e poi ordinatamente ha ceduto terreno ora è a chilometro 28 però sempre ceduto terreno è Duce a che distanza è il chilometro 28 dalla frontiera? giustamente che vuol dire? cavallero 4-5 chilometri però la nostra occupazione non era fino al confine ma al di qua quindi si è perduto meno le nostre predisposizioni sono in via di completamento ma la mia domanda è ma la Jugoslavia l'abbiamo attaccata oppure ci stiamo difendendo la Jugoslavia? perché diciamo se le nostre linee erano addirittura al di qua del confine se un'attacca deve avanzare non è che dice io dichiaro guerra ma mi metto in retroguardia è un metodo strano la miglior difesa è l'attacco secondo cavallero la miglior attacco è la difesa così sostanzialmente l'azione di ieri è stata le nostre predisposizioni sono in via di completamento sempre in via di completamento l'azione di ieri è stata molto violenta abbiamo avuto molte perdi ne abbiamo inflitte moltissime quindi ne abbiamo più date che ricevute Duce ora su Scutari avrete quattro divisioni Centauro, Messina, Marche e probabilmente anche la Casale quindi non avrete quattro avrete forse quattro perché se c'è Centauro, Messina, Marche e probabilmente anche la Casale sono tre forse un'altra vabbè cavallero state tranquillo che per Scutari non avrete dispiaceri sembra un po' tipo Enrico stai sereno così quella della serie mi viene in mente per quanto concerne l'azione di libre di Struga vi informo che l'attacco è ripreso stamani e si procede su Struga sebbene lentamente nel settore del di Brano gli alpini avanzano anche ma sono fortemente contrastati avanzano anche ma sono fortemente contrastati il tempo è pessimo e in alto c'è neve e tormenta vi informo che la missione di collagamento italiana presso il comando tedesco non sia ancora fatta viva Duce mi meraviglio altamente cavallero vi dico questo semplicemente perché lo sappiate e interveniate se lo crederete opportuno cioè deve intervenire il Duce non può intervenire il cavallero non lo so è il cavale stato maggiore generale è il comandante superiore dello scacchiere vabbè a 19.20 ricevo scattini mi comunica che la pressione nello scudarino non è così forte come sembrava però missione di collagamento italiana dovrebbe essere militare quindi dovrebbe sempre diventare cavallero vabbè è forte invece come resistenza e numero di attaccanti a 19.30 Bitocco mi porta il treame del Duce 8087 la notizia di Cuzzoni 8088 virgolette numero 8087 OP corpo armata da Bitogli avanza su Florina allo scopo di agire sul fianco dello schieramento inglese la cui sinistra si estenderebbe verso Edessa alt reparti italiani debbon dalla zona di Struga agire in direzione sud per le strade a destra e a ovest del lago di Prespa su Pilishti e Svezza allo scopo di concorre all'azione tedesca e di avviluppamento dell'ala destra dello schieramento greco contro di noi tenere pronte truppe per avanzare su tutto fronte appena possibile senza dare tempo a truppe greche di ripiegare su posizioni arretrate alt Mussolini magari arretrassero magari vabbè poi numero 8088 OP di Guzzoni alt comunico seguenti notizie trasmesse dal generale Marras che trovasi presso comando superiore tedesco est stata occupata Florina alt est est prevista in giornale occupazione Pristina e Prizren alt si spera prossimo collagamento con truppe italiane di Albania alt Guzzoni al 19.50 invio al duce seguente telegramma virgolette dato ordine al comando non armata predisporre colonna leggera autocarrata con artiglierie per marciare su direzione prespa Ogrida Bilisti colonne dovranno riunire domani zona Perragnes per essere pronta a muovere porto anche in zona non armata raggruppamento forestale preso contatto commissione tedesca per conoscere tempi movimento truppe verso Struga che sembra potrà essere raggiunta domani finisce il virgolettato da interteccettazione tedesca mi risulta che gli icoslavi inviano forze verso il Montenegro telefono a Pirzio Biroli virgolette riunisci tutto e sbatti avanti ma si deve arrivare a Struga il tuo ferroni non ha il mordente necessario non c'è scritto ma in maggio si è finito il virgolettato alle 20.50 d'ordine di fare i seguenti fonogrammi al comando non armata virgolette duce ordina che Struga sia raggiunta domani a qualunque costo finisce virgolette a Pirzio e Biroli virgolette conferma comunicazione telefonica predisponete domattina in zona Pregnes autocolonna leggera di circa un reggimento con artiglieria e finisce il 10 passiamo all'11 alle 5.30 parto per Ciafatane dove arrivo alle 8 trovo Pirzio e Biro e Force Pet ci richiamo assieme poco oltre al comando dell'Arezzo dove troviamo Ferroni il quale ci espone la dislocazione delle truppe nostre avversarie e il suo disegno di manovra poco dopo inizia la preparazione di artiglieri e verso le ore 9 non ricevendo notizie dell'avanti mi spingo avanti di 4 km alle casermette jugoslave ovvero la notizia che le nostre truppe avanzano a destra e a sinistra della strada mentre la strada stessa non è percorribile causa la presenza di sbarramenti anticarro che le nostre truppe del genio stanno rimuovendo tuttavia bersaglieri motociclisti sono riusciti a superare l'ostacolo e verso le 11.30 mi giunge notizia che le nostre truppe stanno avanzando velocemente verso Struga quindi lo sprone di Mussolini sta avendo effetto alle ore 12.30 ha avuto notizia che le nostre truppe stanno per entrare in Struga mi spingo avanti superando 3 sbarramenti anticarro divelti dal genio e alle ore quindi se sono divelti non ci stanno più questi sbarramenti è un po' così c'erano alle ore 13.30 arriva a Struga tra le festose accoglienze della popolazione prendo i primi contatti con l'autorità del luogo niente meno in Struga trovo un ufficiale medico yugoslavo di un ospedale il quale mi dice che era già medico del posto e essendo di razza tedesca si mette a mia completa disposizione informandomi che verso nord ci sono circa 5.000 uomini che non attendono altro che arrendersi niente meno si presenta inoltre il potestà e altre autorità del luogo munite di bandiera bianca che mi propongono di andare avanti a parlamentare con l'avversario che secondo loro sarebbe ancora tra Struga e Ocrida in sistemazione difensiva Umi ufficiale inviato avanti per eventuali trattative torna poco dopo informandomi che ha già preso contatto con le truppe tedesche ma che i resti delle unità nemiche stanno accennando un tentativo di aggiramento poco dopo incontra un plotone di moto mitraglieri tedeschi quali fraternizzano con la nostra compagnia bersaglieri motociclisti e con essi inneggiano al Duce e a Hitler successivamente mi raggiungono Pirzio Biroli Farinacci Starace e Ferroni eh Farinacci e Starace non vedevano aurora già eh no gli alpini della Cunense tra volte le ultime resistenze raggiungono la conca di Dibra elementi dell'altra colonna infranto lo sbaramento di Malivlay e occupata Struga si incontrano ad Ocrida con un distaccamento leggero alleato alleato al senso di Germanico ho seguito da vicino l'avanzata do a Pirzio Biroli disposizione affinché siano prese nella zona di occupazione le necessarie misure di sicurezza e perché la compagnia motociclisti bersaglieri prosegua su Ocrida dico a Pirzio che il preavviso per scattare in avanti parte da questo momento alle 16.05 sulla via di ritorno sosto nell'abitato di Perregne e conferisco col genete Stefanis il quale con tutto il tredicesimo fanteria della Pinerolo e il comando di divisione sta prendendo posto su circa 120 autocarri forniti parte dall'armata e parte all'intendenza della quale mi si mette in evidenza il lodevole interessamento sta per partire fra un'ora circa per le linee avanzate che poi avanzate vabbè già qualcosa alle 20 mentre conferisco al Duce la conversazione viene momentaneamente interrotta Ambrosio gli comunica la presa di Lubiana e che si avanza su Carlo Vac quindi anche qualcosa nella fronte Giulia dopo pochi minuti il Duce mi chiama e io riprendo la conversazione dicendogli che a Kukes non si è potuto fare niente non si può avanzare perché dato il brillamento del ponte per una lunghezza di circa 80 metri e dato che il drain in questi giorni a causa delle piogge è enormemente ingrossato non si è potuto passare né ieri né oggi per Scutari informo che la Centauro Occa coplica a mezza strada circa fra il confine Scutari con elementi ritardatori sulla fascia antistante intanto si sta completando lo schieramento sostanziale con l'affluenza della Marche mentre la Messina è già in posto il comandante del corpo d'armata e il comandante della divisione Pizzolato sono tranquilli perché sentono di essere bene corazzati la Centauro aveva ancora un battaglione indietro ma glielo abbiamo dato a elementi della guardia della frontiera alla Messina e abbiamo levato da Piscopeia due battaglioni della Puglia inoltre due battaglioni di camice nere con i quali si sta completando la situazione come artiglieria ho avviato due gruppi da 105 e un gruppo da 149 e 35 la situazione di anima è tranquilla la Marche e riserva non ancora intaccata e vedrò come la sistemazione si delinea per inviare la Casale che non ancora fruisce ma però è pronta credo non vi sia nulla da temere si sta profilando bene vediamo il 12 vediamo il 12 12 aprile alle 10 telefono al 12 dicendoli che la divisione Arezzo è ferma a Struga per vedere il contegno delle truppe jugoslave che si trovano a nord tra Struga e Dibra De Stefanis seguito da raggruppamento forestale va avanti risulta che i greci si stanno riunendo fra i due laghi e mandano tentacoli lungo le rive i tedeschi marciano su corcia e vi arriveranno forse domani ho detto a De Stefanis che risponde con la sua testa se non entra prima in corcia almeno qualche ciclista italiano ho dato conferma a Pirzi o Biroli degli ordini ieri e pertanto per domani sarà pronto analogo ordine ho dato a Geloso confermando però che la casale rimane a mia disposizione ho chiesto ai tedeschi cosa intendono fare verso Kukes e loro hanno risposto che agiranno solo se io voglio allora ho risposto che non abbiamo bisogno di niente non vi preoccupare ci pensiamo noi il fatto che non ci siamo riusciti per 6 mesi non fa niente alle 18.15 ricevo Ransa e gli do le seguenti notizie i tedeschi hanno mandato una compagnia da Florina su Blishti ha incontrato resistenza è stata oggi rinforzata per rientro per ritentare l'attacco la Pinerolo alle 2 di notte si è avviata sulla strada che Fonspett diceva essere allagata non si sa ancora l'esito dell'avanzata incontrerò certo resistenza perché i greci hanno fatto fronte a nord stiamo rastrellando a nord di Struga infine gli do le seguenti direttive quotidiana e reiterata azione su Scutari vigilare il corso del Drin la conca di Broga e di Kukes insomma tutto il fronte nord verso la Jugoslavia le truppe che tengono tutto il fronte di Jugoslavo sono Centauro Messina Puglia Firenze Cunens Arezzo c'è una nota vediamo un po' che nota vabbè fa un ripito delle truppe alle 23.15 invio a Pirziobiroli il seguente fonogramma virgolette considerato primo condizione strada verso Prespa secondo impossibilità avviare colonna di Stefani Splerflina dispongo che colonna sosti domani in zona Resen dove già trovasi e faccia puntare oltre confine greco con elementi celeri possibilmente per ambedue le strade dei due lati per far sentire presenza ed agevolare azione tedesca da Florina generale De Stefanis potrà in pari occuparsi rastrellamento zona altre disposizioni seguiranno in base avvenimenti giornata di domani come diciamo De Stefani già risponde della sua testa quindi diciamo che potrebbe essere anche decapitato da un momento all'altro mi sembra interessante qui c'è l'elemento un po' di agitazione da parte mia anche nel descrivere queste cose che mi sento coinvolto questo racconto molto frenetico in cui si dice ah fai quello fai quell'altro perdi la testa te taglio la testa va avanti e per forza attaccate i tedeschi dicono lo facciamo solo se il dici tu no no non lo fare ci pensiamo noi è una cosa molto teatrale nella sua descrizione cavallero però diciamo che già ci ha abituato a racconti narrazioni di questo tipo io come al solito vi ringrazio vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao